Musica, giochi, intrattenimento e Luna Park. La località di Ponte Sasso si anima in occasione della bella stagione e lo fa tutti i venerdì dei mesi di luglio e agosto a partire dalle 21 su tutto il tratto del lungomare. L'evento dal titolo Musica Mare è organizzato dall'assessorato agli eventi e turismo del comune di Fano, da On Stage impegnata nella parte artistica e dall'unione sportiva di Ponte Sasso, oltre al coinvolgimento delle diverse attività del posto. Sì, il progetto Fano On Plein Air ormai è chiaro, funziona tanto, funziona tanto nel centro storico con tutte le attività all'aperto e vogliamo che tutto questo si consolidi anche in tutto il lungomare della città di Fano, da Ponte Sasso, Torrette e tutti i lungomare della città e quindi Ponte Sasso in accordo con la società sportiva, in accordo anche con On Stage e faremo queste bellissime serate di venerdì tra musica, giochi itineranti, anche la presenza del Luna Park, associazioni, rievocazioni storiche o associazioni che mostrano caratteristiche della nostra città che faranno una serie di attività. L'obiettivo è raccontare la nostra città, tutti i turisti che sono presenti nel lungomare e fare in modo che questi possano anche venire a visitare la città di Fano, vogliamo che ci sia una città viva nel modo giusto, nel modo sicuro, in modo tranquillo, ma che le persone possano goderci appieno questi momenti di vacanza. Quindi grazie a coloro che collaborano per Ponte Sasso, stessa cosa si sta realizzando a Torrette insieme a Proloco di Fano e l'associazione Il Paese dei Balocchi e altri progetti si avvieranno nella zona della Sassonia, nella zona dell'Ido e negli altri lungomari, quindi vogliamo che la città sia viva e sia partecipata. Grazie a tutti!